La Sicilia porterà fortuna al cinema italiano. Il produttore Goffredo Lombardo brinda alla nuova società cinematografica Titanus Sicilia. Un grande centro a ciclo completo di lavorazione sorgerà sulla costiera palermitana, in un paesaggio ideale per qualsiasi tipo di film. La produzione si avvarrà in principio di tecnici italiani e stranieri, ma è stata già approvata la costituzione di una scuola di addestramento per la qualifica del personale siciliano. Il primo film della nuova società sarà Giovanni, diretto da regista Olmi. La lavorazione avrà inizio quanto prima.